L'ambiente finanziario odierno è sempre più complesso e in continua evoluzione. Per stare al passo sono necessarie soluzioni che possono migliorare drasticamente l'attività di cash management tramite l'ottimizzazione delle informazioni, l'aumento della produttività, un aiuto nella gestione dei rischi, tutto in un modo che sia sicuro e sia adatti al vostro modo di lavorare. Questo è ciò che JPMorgan Access vi offre, un insieme di servizi di cash management che aiutano le aziende a ottimizzare ed efficientare il lavoro. Il collegamento a JPMorgan è semplice e flessibile. JPMorgan Access Online agisce da gateway principale. È possibile effettuare pagamenti, controllare quotidianamente le posizioni di liquidità, creare report addornati e monitorare le funzioni di ogni singolo utente. La piattaforma è intuitiva, integrata e completa. La nostra tecnologia è anche mobile e vi consente di seguire il vostro business ovunque siate. JPMorgan Access Mobile permette di essere informati su transazione e stato dei conti tramite app protette per smartphone e tablet. Si tratta di una soluzione innovativa per coniugare il lavoro in mobilità all'attività di cash management. JPMorgan Access Host to Host offre un'ulteriore tipologia di connessione, sicura e completamente automatizzata, per eseguire pagamenti e ottenere dati di reporti, i vantaggi, efficienza, protezione e controllo al massimo livello. Poiché le esigenze si evolvono, lo stesso vale per JPMorgan Access. Staremo sempre al passo con i progressi della tecnologia per essere il vostro partner bancario globale. Il nostro impegno? Fornire i migliori servizi di cash management e individuare e sfruttare insieme a voi nuove opportunità. Grazie per la visione!